Musica Chiude in ribasso l'industria manifatturiera marchigiana. Terzo trimestre 2023 in calo rispetto ai livelli rilevati nello stesso periodo del 2022. Meno 5,2%, peggio della media nazionale che è del meno 3,9%. Questo secondo i risultati dell'indagine trimestrale condotta dal Centro Studi Giuseppe Guzzini di Confindustria Marche in collaborazione con Intesa San Paolo. L'attività commerciale complessiva ha registrato un calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, giù le vendite interne del 9,2% con risultati negativi per tutti i settori. Scende del 2,4% anche l'export, positiva la dinamica per la meccanica e il tessile abbigliamento. In calo le vendite per tutti gli altri settori, stabile però l'occupazione, meno 0,1% con andamenti positivi nella meccanica, nell'alimentare e nel tessile abbigliamento, negativi o nulli negli altri settori. Nello stesso periodo le ore di cassa integrazione hanno subito una flessione del 6,6% rispetto al terzo trimestre 2022, passando da 4 a 3,8 milioni. Nonostante la diminuzione del costo dell'energia e degli input di produzione, le condizioni di mercato per le imprese marchigiane sono ancora molto difficili, ricommenta il presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali, il quale ha sottolineato che il quadro preoccupa anche per gli scenari previsti per i prossimi mesi. Sarà importante un'azione sinergica tra pubblico e privato per sostenere e accompagnare le imprese nelle sfide complesse che stanno affrontando.